Servono idee chiare per le primarie per evitare che in futuro possano esserci nuovi casi come quello della campagna dove si susseguono continui rinvii, ormai siamo giunti al quarto con il nuovo appuntamento con il voto rinviato al primo marzo. A dirlo dagli studi di Telecolore 7, la rassegna stampa del mattino di Telecolore e Alfonso Andrea, ex parlamentare nonché presidente della provincia di Salerno, esponente del PD salernitano. Per Andrea tra l'altro sarebbero anche state raccolte le firme necessarie per arrivare al fatidico 60% ed ottenere con l'assemblea l'annullamento delle primarie. Fatte nel modo in cui siamo abituati a farle, io resto contrario alle primarie, non perché sia contrario alle primarie in sé ma perché sono contrario alle primarie per come le abbiamo applicate in alcune realtà del nostro paese. detto questo però, rinviare 4-5 volte, siamo alla quinta data e quindi adesso è vero che si punta, risulta anche a me che si punti a questo annullamento delle primarie, ma ancora una volta non si ha lo scatto di Reni per dire non si fanno, basta, no c'è ancora un altro rinvio, si va al primo marzo attraverso una raccolta di firme che è stata promossa online se non vado errato nella giornata di ieri, penso che sia stato raggiunto il quorum richiesto, insomma c'è una procedura abbastanza strana, abbastanza disinvolta. Andrea quindi resta contrario alle primarie ma a questo punto ha detto o si fanno con certezza o si deve decidere altrimenti. Un invito chiaro a Renzi affinché si occupi personalmente del caso Campania. Una persona che gode nel partito del consenso di cui gode Renzi e che anche al governo sta marcando risultati così positivi, conducendo l'azione di governo nel nostro paese, in questo momento dovrebbe dedicare due ore alla Campania e penso che il problema si risolverebbe. Meglio sarebbe trovare queste due ore o questa mezz'ora il più presto possibile, perché più giorni passano, più la situazione si sfilaccia, si aggrava, l'elettorato si disorienta. Sollecitato su possibili candidature, poi Andrea non si è sbottonato, ritenendo lontane le comunali a Salerno e ancora di più le politiche alle quali comunque dovrebbe essere presente. Io ho fatto questa esperienza nel 2006, ma anche come candidato sindaco sono stato candidato nel 2006, non so se ci siano le condizioni oggi, intanto cerchiamo di capire, anche qui c'è molta letteratura rispetto alla ipotesi di un terzo mandato di De Luca, ma non corriamo perché ci sono scadenze importanti e significative, intanto c'è il Consiglio Comunale che è in carica, questa è un'altra cosa che pochi avevano capito.